Buonasera a Matteo Piantodeu di nuovo Ministro dell'Interno, a Massimo Martinelli direttore del Messaggero e ad Alessandro Sallusti direttore di Libera. Allora intanto complimenti, lei è prefetto di lunga esperienza, è stato prefetto di Roma, è stato a suo tempo capo di gabinetto del Ministro Salvini, ma dal Ministro dell'Interno in momenti anche difficili per gli immigrati e torna in maniera prepotente il problema di come gestire questa immigrazione perché, guardiamo adesso la nostra tabella, in un anno è aumentato il 50% il numero di sbatti, è abbastanza impressionante, vedete che nel 2020 erano dal gennaio, immagino che sia il periodo soltanto fino ad ottobre, circa 27.000 nel 2020, 53.000 più o meno nel 2021 e 79.000 adesso, quindi più 50,78%. Allora cerchiamo di capire come funzionano queste cose perché lei ha richiamato una legge in vigore ma diciamo non applicata di fatto, cioè quella che riguarda anche le... adesso stanno arrivando due navi con 400 persone, una di nazionalità tedesca, l'altra olandese, quindi che succede? Noi sì, abbiamo invocato l'applicazione di questa legge che poi sono i decreti famosi sicurezza che furono adottati all'epoca, revisitati durante il periodo successivo ma che sono rimasti sostanzialmente nel loro impianto. Io semplicemente ho voluto richiamare, peraltro dopo che attraverso i canali diplomatici è stato fatto presente ai paesi di bandiera delle due navi che per le modalità con cui si svolgevano gli eventi c'erano due ordini di problemi in particolare. Uno è che queste nave si stavano muovendo a nostro giudizio, il giudizio dell'Italia che ripeto ha formalizzato in una nota verbale fatta da entrambi i paesi, al di fuori delle regole anche internazionali, europee e nazionali, cioè senza aver preventivamente sottoposto il loro intervento alle autorità competenti. Cioè che avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto, prima di muoversi, chiedere alle autorità SAR competenti, nella fattispecie erano quelle libiche o al massimo quelle maltesi, credo che gli interventi, nelle acque SAR, c'è una leggera distinzione perché le acque territoriali sono quelle, le 12 miglia secondo le convenzioni internazionali, le acque SAR sono una determinazione di aree del Mediterraneo che radicano la competenza all'intervento di soccorso, di ricerca e soccorso dei singoli stati che si affacciano sul Mediterraneo. Quindi avrebbero dovuto richiedere preventivamente, non successivamente come ormai da sempre o insomma in questo caso hanno fatto, questo primo tema. Dopodiché abbiamo fatto presente che essendo... Avrebbero dovuto dire che noi ci stiamo muovendo. Ci è stato comunicato che ci sono delle persone in difficoltà, insomma che stanno attraversando, ci date l'ok, insomma ci coordinate, interveniamo noi perché le autorità SAR che ne hanno la responsabilità possono, come dire, scegliere gli assetti, le formule che ritengono secondo la loro responsabilità più adeguata al soccorso specifico, all'evento specifico che si presenta. In più, come dicevo, c'è anche il tema che avendo fatto questo soccorso in autonomia, avendo fatto salire a bordo queste persone in acqua internazionale, secondo principi internazionali, che io ho letto anche insomma che autorevoli giuristi, diciamo marittimisti, come si dice, insomma esperti, insomma di normativi internazionali e di settore, avendo fatto salire a bordo in acqua internazionale, secondo il codice della navigazione internazionale, quando un natante che sta in acqua internazionale e batte bandiera di uno Stato, cioè ha la giurisdizione lo Stato di bandiera su tutto ciò che avviene a bordo di quel natante, quindi hanno radicato al nostro modo di vedere le famose regole di Dublino che prevedono che competente all'assistenza e quindi anche a raccogliere la domanda di protezione internazionale, se di questo si tratta, sono i paesi che battono bandiera, tutto qui, quindi questo l'abbiamo fatto presente, peraltro io ho sentito loro dicono, non ci hanno detto niente, io in questo momento siccome loro non hanno chiesto a noi, forse insomma va un po' invertito il rapporto, perché poi adesso vedremo, dovrebbero essere loro a chiedere qualcosa ad uno Stato, ad uno Stato. Voi avete detto alla Germania e all'Olanda e alla Norvegia, scusate, questa è roba vostra, quindi a quel punto che succede? A quel punto adesso... Non li facciamo entrare. No, noi aspettiamo ancora la risposta di questi due paesi, io intendo ovviamente, inosseguo anche i principi di buoni rapporti che abbiamo con questi due paesi, di sentire a breve attraverso le autorità diplomatiche dei due paesi presenti qui a Roma, di sentire un po', ma anche con la mia omologa tedesca, di sentirli a breve e quindi di cominciare ad avere in qualche modo un orizzonte di azione da fare, potrebbero anche succedere, che insomma accettino... Quelli cascano da letto perché finora nessuno gli ha detto niente. È una vecchia questione, è una vecchia questione di direttore, anche in passato succedeva e poi c'erano comportamenti, io segnalo se può essere utile, perché poi ci fu un comportamento nella prima fase di applicazione di queste normative ci fu un comportamento anche differenziato, perché se è vero che in molti casi i paesi che venivano attinti da questa nostra presa di posizione, in qualche modo la rifiutavano con interpretazione al loro modo di vedere di segno diverso, segnalo che nel famoso caso, quell'ultimo che successe, quello dell'Open Arts, che poi da cui ne è conseguito anche il processo che è l'unico che è tuttora in celebrazione a Palermo, ebbene in quel momento c'era stato, al di là che gli eventi precipitarono e successe quello che è successo, ma ci fu la Spagna che aveva accettato questo principio e stava avvenendo, aveva predisposto l'invio degli assetti per venire a prendere le persone. Quindi voglio dire, noi adesso siamo in attesa, vediamo, c'è un'interlocuzione che sarà sicuramente, come dire, consona a quelli che sono i doverosi buoni principi di relazioni con questi paesi, vediamo che cose ci rispondono. No, ma se loro facessero riscontro? Noi adesso, io non voglio fare previsione, ma lo faccio non solo per eludere la domanda, o quantomeno non per eludere la domanda, siamo in una fase in cui siamo in una fase di attesa, vediamo, noi intendiamo affermare un principio, a prescindere dal caso concreto, noi vogliamo lanciare un segnale anche ai nostri partner europei, anche alla comunità internazionale, che crediamo che la condivisione di questo fenomeno non può essere, peraltro molto a fatica, attuato solo a sbarco avvenuto con tutti i meccanismi di cui si discute da tempo, dei ricollocamenti, distribuzioni, che peraltro, appunto, come è noto, procedono con qualche fatica, ma deve essere preso in carico sin dall'inizio, insomma. Cioè, la correttezza vorrebbe che la Germania e la Norvegia si prendessero subito i passeggeri di questa era. Esatto. Allora, intanto, come al solito, non fa più notizia, Lampedusa scoppia e quando mai non è scoppiata, perché sta sempre scoppiando, perché arriva una quantità di gente veramente impressionante. Simona Decima e Salvatore Cemenele. A Lampedusa, Prodo e Porta d'Europa, complice il mare piatto e il caldo estivo, sono ripresi gli sbarchi dei migranti. In questi ultimi due giorni sono arrivate sull'isola circa 900 persone e con i vivi si contano purtroppo anche i morti. 13 migranti, tra i quali 4 bimbi piccoli. In serata, 4 corpi sono stati trasferiti in terraferma. I migranti continuano ad arrivare e continuiamo in qualche modo ad occuparcene, mentre le istituzioni ed in particolar modo l'Europa continuano a rimanere immobili su un problema che dovrebbe essere affrontato, affrontato in maniera strutturale, non emergenziale. Questo che vedete alle mie spalle è l'hotspot di Lampedusa, un luogo progettato per accogliere al massimo 385 persone. Oggi ce ne stanno oltre mille. Proprio per diminuire il numero dei migranti presenti nell'hotspot, migranti che non sono visibili sull'isola grazie alle operazioni condotte dalle forze dell'ordine, oggi sono state trasferite a Porto Empedocle con il traghetto di linea 560 persone. E sempre qui, oggi, le forze dell'ordine e la procura di Agrigento hanno tenuto una riunione su questo tema. Quello che chiediamo è la presenza di maggiori interpreti a disposizione delle forze di polizia su questa isola che continua ad essere un territorio di frontiera perché per ricostruire fatti di reato e catturare presunti colpevoli abbiamo necessariamente bisogno degli interpreti perché sennò siamo ciechi e sordi. Intanto le due navi umanitarie, la norvegese Ocean Viking e la tedesca Humanity One con un carico di oltre 400 migranti, si trovano ancora nel canale di Sicilia. Ma il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha emanato una direttiva che definisce la condotta delle due imbarcazioni non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale. Allora stasera il deputato De Verdi, Sumahoro, dice che invita tutto il centro-sinistra a una rappresentanza evidentemente a salire sulle navi perché siccome alcuni ministri si apprestano a tenere sospese le vite umane in mare non si può soltanto guardare ma agire. Qua rischia di ricominciare una telenovela già vista. Beh è ovvio che questo tema che peraltro in questo momento è drammatico e centrale per chi lo subisce e per chi lo deve gestire ma non è in cima all'agenda del Paese sarà uno dei temi su cui le opposizioni, perché è uno scontro classico sull'immigrati, quindi sarà un tema su cui le opposizioni faranno molto baccano, insomma se ne inventeranno tutte tipo queste cose che lasciano un po' il tempo che trovano, questo sarà sicuramente così. Martinelli? Io penso che la linea che ha intrapreso il Viminale, la linea che poi ha definito Giorgio Meloni sia quella corretta, cioè far ricadere sul resto dell'Europa la responsabilità di ogni singolo Stato. È un po' quello che si sta verificando con le sanzioni all'Ucraina, questo fenomeno lo sta pagando da molti anni l'Italia perché l'Italia è il Paese, si può dire, frontaliero, quindi è il Paese d'accesso e gli altri non se ne fanno carico. Quindi coinvolgere tutti i Paesi europei secondo me è la linea giusta, poi tra l'altro è previsto già da quella Convenzione Sofia alla quale ha fatto riferimento Giorgio Meloni l'altro giorno la terza parte della Convenzione dell'Operazione Sofia, che non è mai stata attuata, è quella di smantellare in tradice il traffico di questi poveri cristiani, sarà un processo lungo, però ho la sensazione che si sia capito adesso al di là di un cambio di governo e di un certo tipo di governo che non possiamo andare più avanti così. Se posso fare due osservazioni, la prima su quel comunicato che lei ha letto, che io rispetto molto qualsiasi posizione politica e ci mancherebbe, però c'è un'espressione quando dice ministri che tengono in sospeso le vite umane, in realtà non è così, perché noi non stiamo dicendo che queste persone non devono essere soccorse, teniamo presente che queste navi, anche queste credo che sono interessate da questi eventi, io sono tornato ad occuparmi di queste cose dopo tre anni, ho trovato una flottiglia che si è anche rinforzata, di stazza maggiore delle ONG, e su queste navi, a mio modo di vedere, al nostro modo di vedere, ottemperano quei principi, peraltro sempre imposti dalle normative internazionali, che a nostro modo di vedere radicano l'individuazione del posto sicuro, anche a bordo di navi, come luogo provvisore, sono navi che possono fare una traversata tranquillamente per qualche giorno, come del resto per qualche giorno si trattengono, anzi per molti giorni si trattengono, quindi quelle persone non sono in condizioni di insicurezza, quindi questo voglio tranquillizzare il deputato a cui lei faceva riferimento, perché le persone sono tutt'altro che in condizioni di vita sospese, quindi questa è la principale osservazione che mi viene di fare sull'argomento. Quindi dobbiamo aspettarci centinaia di persone assetate, affamate? Ma assolutamente no, del resto le dico, non solo non è così per le loro capacità, noi siamo disponibili, e l'abbiamo sempre fatto, che anche in questi casi siamo disponibili a farci carico di persone che dovessero versare in condizioni di vulnerabilità, donne incinte, bambini, ammalati, feriti o quello che siano, forniture particolari se ci fosse bisogno, tutto questo non c'è stato ancora chiesto, perché queste navi sono ancora abbastanza lontane da noi, quindi adesso noi stiamo facendo ovviamente delle ipotesi sapendo qual è la sequenza storica, ma insomma se dovesse essere, fermo restando il mantenimento del principio, siamo in grado di farci carico di tutti gli aspetti di sensibilità e di debolezza che in qualche modo l'evento dovesse prospettare, come è stato sempre fatto. Naturalmente queste vicende si portano dietro delle scie di dolore che non vorremmo vedere, mettiamo questo breve servizio sempre dei nostri inviati, e cioè di Simona Decina e di Salvatore Cerminele a Lampedusa, proprio su bambini piccoli morti. Lei per i due bambini che sono morti nell'esplosione ha fatto una cosa meravigliosa? Sì, perché l'hanno recuperata, hanno fatto un'ispezione cadaverica, quindi l'hanno denudata, l'hanno messa, abbiamo fatto il recupero, l'abbiamo messa nelle casse, poi io sono ritornato l'indomani perché non mi sentivo che dovevo finire in questo modo, ho portato delle tuttine delle mie due figlie quando erano piccole e gli ho dato un minimo di umanità, un minimo di decenza per il loro ultimo viaggio. Venerdì scorso due bambini sono morti bruciati a causa di un'esplosione su un barcone che dalla Tunisia era diretto a Lampedusa. Mentre sono ancora in corso le indagini su quello che è successo, qualcuno nel cimitero dell'isola ha ridato loro dignità e un'ultima carezza. E che cosa ha provato quando ha fatto questo? Un minimo di sollievo perché non si può mai accettare la morte di due bambini di pochi mesi. Oltre a questi due bambini, in questa stanzetta del cimitero, ben lontana dall'essere una camera mortuaria, ci sono anche due gemelline. Due piccole neonate, nate premature, gemelline, tutte e due femmine, che avevano il bracciale che solitamente si mette nel reparto di ostetricia quando nascono queste piccole bambine. Purtroppo poi si sono messe in viaggio nel tentativo di poter raggiungere una località per poter meglio assistere queste due bambine premature, ma non ce l'hanno fatta nel tragitto. Sono decedute quasi sicuramente per cause da ipotermia. Il secondo Alessandro Ghisleri, vediamo il cartello 15, con il nuovo governo Meloni, gli sbarchi e l'immigrazione saranno al centro di attenzione più che in passato e la maggioranza dice sì, 56.5, avranno la stessa 18, non saranno un tema importante, soltanto il 12% e non sanno, risponde il 12%. Adesso parliamo un momento, poi parleremo anche delle bollette, c'è un po' di tensione in giro. Oggi è stata occupata la facoltà di scienze politiche perché c'è stato... Allora, ieri c'era una manifestazione autorizzata. Ci sono stati dei gruppi di studenti che volevano impedire che si facesse, la polizia è intervenuta. È stata accusata di intervenire con eccessiva durezza, lei ha detto invece che, a quanto pare, ha rispettato le norme. Così? Ma ha rispettato le norme perché l'esercizio della forza pubblica, che è una prerogativa delle autorità di polizia, è sempre qualcosa di delicato e di sensibile. Ha rispettato le norme perché essenzialmente, come peraltro ha ricordato la Presidente Meloni, c'era un dato di fatto che questi manifestanti, manifestare qualsiasi pensiero libero nel nostro Paese, ma avevano l'obiettivo di evitare che ci fosse la libera espressione del pensiero di altri. La Presidente Meloni ha trovato molto efficace anche nella sua discussione di ieri al Senato, ha detto io pure ho un vissuto antico di manifestazione, ma mai ho manifestato per impedire ad altri di parlare. Questo non significa che va contrapposta alla forza brutta. Le forze polizie hanno impedito soprattutto che ci fosse l'assalto a quel luogo dove si verificava questo evento pienamente legittimo. E' chiaro che quando poi si arriva al contatto fisico, si vedono le scene che, men che meno l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro vorrebbe vedere, né per se stesso né per i propri uomini, dei quali io mi assumo tutte le responsabilità. Perché so quali sono le fatiche sul campo, è un po' come, mi consente un paragone irriverente, è un po' come quando si vede alla moviola il calcio. Dopo facciamo tutti, insomma, facciamo delle valutazioni guardando le immagini, ma lì ci sono degli uomini, delle persone, dei funzionari, che anche a rischio della propria incolumità personale, in pochi secondi devono prendere una decisione, no, quale comportamento avere per evitare che ci sia qualcosa di più importante. Quindi questo è un po' il... Poi capisco che c'è, come dire, una visibilità, nessuno di noi vorrebbe vedere, insomma, una conflittualità portata fino a quel punto. Io confido molto sul fatto che ci possa essere una complessiva opera di rasserenamento. non è solo l'università, lei ha citato le facoltà universitarie. Noi abbiamo qui a Roma, c'è già qualche segnale, pure di qualche istituto scolastico superiore, un liceo dove pure, per la verità è un fenomeno che è accaduto anche negli anni scorsi, ci sta questa, come dire, recrudescenza di fenomeni di occupazione anche non senza qualche danneggiamento, qualche, diciamo, qualche violenza almeno sulle cose. Noi stiamo contrapponendoci con assoluto equilibrio, moderazione, quindi abbiamo evitato gli interventi, confidiamo, abbiamo sollecitato attraverso un'opera di mediazione, pur essendo che doverosamente i dirigenti scolastici hanno presentato denunze a tutela del patrimonio della scuola, però stiamo, come dire, mediando con equilibrio proprio consapevoli del fatto che l'esercizio poi della forza, il ripristino della legalità con l'esercizio della forza è sempre l'ultima cosa che deve venire. Allora, adesso andiamo al Tg1, poi torniamo e parleremo anche di questa proposta sull'uso del contante. A tra poco. Grazie. 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 Per l'ultima parte della tradizione faremo un dibattito, un'analisi di quello che è successo esattamente cento anni fa. Siamo con il ministro, per dire il prefetto, no, ormai il ministro degli interni, Marcello Piantonobi e con Massimo Attinelli, il terreno messaggero, Alessandro Falisti, direttore libero. La vostra valutazione su questa occupazione in all'esse, insomma, che sta succedendo? Ma io voglio chiedere al ministro, tutto sommato sono fatti, sia pure, come dire, molto delicati, ma abbastanza prevedibili, soprattutto perché avvengono in chiaro, cioè, si vede, lei ha sentito, credo che le cose più pericolose siano quelle che non si vedono, lei ha sentore che stiano per accadere cose di cui non abbiamo percezione o visibilità in questo momento? Più che sentore, ovviamente è compito mio avvelermi delle analisi che fanno gli specialisti. Noi oggi abbiamo avuto un proficuo Comitato Nazionale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica che è stato in gran parte dedicato anche proprio a questo tema specifico. Ovviamente i lavori, il prodotto di questi confronti ha le caratteristiche di riservatezza, però le dico che tutti gli analisti sono molto attenti perché è del tutto evidente, insomma, ecco, a proposito di cose che ritornano, che noi dobbiamo mettere in conto che la crisi socio-economica, peraltro dopo il periodo della pandemia che già aveva fatto emergere qualche effervescenza, già adesso, ma possibilmente nel futuro prossimo, possa presentare delle caratteristiche di preoccupazione. Con questo io non voglio lanciare messaggi di particolare allarme. Però ci sono tutti gli ingredienti perché qualche cosa possa avvenire. E' chiaro che di fronte a questa preoccupazione è cruciale e determinante la ripresa economica in tutte le direzioni in cui questa possa essere intercettata. Ma questo lo dico non per allontanare da chi fa il mio lavoro le proprie responsabilità. Per il resto noi ci stiamo predisponendo. Ecco, dicevo, oggi ho fatto un'affermazione anche proprio alla Scuola Superiore di Polizia in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Ho, in quel modo anche indirettamente, raccomandato moderazione ed equilibrio a tutti gli operatori interessati, insomma, di confrontarsi con questi temi, con la saggezza e con l'attenzione che la preoccupazione richiede. Allora, che ci possa essere del malessere, perfino è legittimo, ma voi avete la sensazione che ci sia qualcuno pronto a strumentalizzarlo? Il punto è questo. Allora, noi l'abbiamo già vissuto questo. Io, drammaticamente, con una ferita ancora aperta, che è stata, lei si ricorderà, ero prefetto di Roma e ho vissuto, assumendomi nella responsabilità, l'assalto famoso alla CGL, dove noi verificammo questa saldatura improvvisa tra lo spontaneismo un po' becero di gruppuscoli violenti, ma pur sempre limitati, che crearono la saldatura col malcontento, che a torta ragione in quel momento avveniva sul tema di tutta la prevenzione che c'era sulla diffusione del contagio. Questo quindi non deve lasciarci indifferente e quindi è un segnale che ci induce a mantenere alta l'attenzione. Coloro i quali strumentalizzano ci sono, ci sono per professione, ci sono delle analisi che dicono che qualcuno si sta provando ad organizzare, storicamente ci sono stati tutti i temi possibili, ambientali, i notav, per dire. Quindi ci sono dei professionisti della sommossa, diciamo così, se mi consentite l'uso di questi termini un po' eccessivi, che noi monitoriamo e teniamo sotto attenzione per evitare che quelli che saranno poi dei temi probabilmente di una certa attualità possano offrire l'ulteriore possibilità. Martinelli? Se posso vorrei fare anche una domanda al Ministro, con assoluta innocenza. La campagna elettorale è stata caratterizzata, soprattutto da parte dell'opposizione, da toni che sottolineavano molto il fenomeno del fascismo, del post-fascismo e quindi volevo chiederle quanto, secondo lei, quel tipo di propaganda può aver influito sulla mentalità dei ragazzi, dei liceali, dei 16 anni, quanto piuttosto dei ventenni e quanto adesso un'attività di pacificazione da parte della stessa sinistra potrebbe servire per calmare un po' gli animi? Guardi, sicuramente la campagna elettorale conclusasi da poco ha fatto registrare qualche asprezzo, io però non attribuirei a questo qualche effervescenza. Questa tentazione dell'antipascismo in qualche modo come presupposto anche dell'attivazione della contrapposizione al prossimo è un dato risalente nella nostra società, peraltro anche con qualche giustificazione. Il fascismo è stata una ferita aperta, un periodo molto grave della storia del nostro Paese con degli abissi, come ha detto la stessa Presidente Melone, quindi degli abissi che insomma ancora sono indimenticati ed indimenticabili e questo probabilmente alimente, questo è il vero tema che alimente una retorica a volte anche appassionata, a volte anche ci può anche stare. Ecco, quindi io non attribuirei, ma non lo faccio per riconoscere all'opposizione politica una colpa particolare. Poi che insomma ognuno di noi possa avere la responsabilità di placare i toni proprio perché sappiamo che altrove i messaggi che lanciamo possono essere mal interpretati è sicuramente qualcosa da auspicare, sicuramente. Bene, allora guardiamo un momento il problema della sicurezza, come vi ho ripercepito, il cartello 14. Allora, lei crede che il tema della sicurezza dei cittadini con il nuovo governo sarà valutato con più attenzione che nei presenti governi? Sì, 41,4%. Avrà la stessa attenzione il 24, non sarà un tema importante, è soltanto il 18. Poi c'è una domanda più generale, una domanda più generale su quello che il governo riuscirà ad intervenire positivamente su e qui c'è uno storico, diciamo, scetticismo perché la gente poi vuole i fatti, insomma, quelle erano opinioni, qui insomma, caro Bolletti positivi, 41% contro quasi un 50% di negativi, la crisi energetica un 40% contro un 50% anche qua, il lavoro e l'occupazione un 39% contro un 52%, la ripresa economica nazionale il 37% contro il 52%, la sanità sul Covid più o meno allo stesso livello, intorno al 45%, il ruolo d'Italia nel mondo positivi sono 41%, i negativi quasi 50%, la gestione dei migranti 43% contro il 47%, la sicurezza, e questo è l'altro dato in cui i numeri sono più o meno equivalenti, 45%, 45%, e la riforma della giustizia 47% contro 48%, cioè voglio dire, mettiamoci di parlo in opinione pubblica, una delle ragioni, ormai l'hanno riconosciuto tutto, per cui è andato al governo Giorgia Meloni e che la gente era delusa di quello che era successo prima, indipendentemente poi dai colori, insomma, sono andati tutti quanti, stesso centro-est ha governato per nove anni, eccetera. Quindi questo parziale scetticismo è fateci vedere quello che è stato in grado di fare. Allora, parliamo un momento di contante, vediamo un pochino qual è stata l'evoluzione del contante, vediamo questo cartello, negli anni. anni. Allora, c'è stato un, diciamo, un, dal 91, c'è un 10.000 euro, l'equivalente di 10.000 euro nel 91, 12.000 euro, diciamo al momento delle entrate migliori nell'euro, poi si è precipitati a 5.000 euro, si è risaliti nel 2008, qui c'è il governo Berlusconi, a 12.500 euro, poi nel 2010, sempre Berlusconi, a 5.000 euro, 6 dicembre 2011, primo atto del governo Monti di Mezzato, da 5.000 a 2.500, poi sceso nel 2016 a 1.000, poi riportato credo proprio da Renzi a 3.000 euro, poi risceso a 2.000, se non si interviene saranno 1.000 euro nel, dal primo gennaio, la proposta del governo, la proposta, sì, la verità più che del governo, questa è la proposta della Lega, di portarla a 10.000 euro. Allora, le chiede un parere soltanto sul punto della criminalità, chi si oppone ad un aumento del contante dice che questo favorisce l'illecito, l'evasione e anche la criminalità. Il suo parere qual è? Guardi, quindi escludo ogni valutazione che non mi ripete sul tema economico tributario, diciamo così, non ci sono evidenze neanche dal punto di vista dell'incidenza sulle analisi criminali, diciamo, che vengono fatte sui fenomeni che in qualche modo sono collegati a questo tema. Faccio un esempio, noi sappiamo che la grave afflizione che c'è il nostro sistema è quello del grande riciclaggio di denaro, che avviene di denaro, che costituisce provento del traffico di droga, che ahimè, purtroppo, soprattutto qui in provincia di Roma è molto fiorente, e tutto questo è avvenuto in maniera più o meno costante a prescindere dai limiti che sono stati, cioè voglio dire, il criminale che ha la necessità di reimpiegare non si fa il problema del tetto, cioè quindi faccio una professione di inutilità della discussione, ma non per carità, non per criticare la domanda, nel senso che nell'ambito dell'analisi criminale è un tema, non sconosciuto, ma insomma che ha prodotto questo tipo di riflessione, cioè oggi il riciclaggio avviene a prescindere dai limiti oscillanti, come ha detto lei, in maniera del tutto svincolata da questo, cioè chi vuole riciclare, quindi chi si vuole avvalere dalla possibilità, dalla necessità di riempiegare denaro si avvale. Qual è il sistema classico di riciclaggio? Sono, ecco, noi abbiamo avuto anche qualche angolo di osservazioni, spesso si è detto, io mi sono fatto un convincimento, si dice spesso la mafia imprenditrice, quasi come se il fatto di fare attività di impresa sia un fine a se stesso delle organizzazioni mafiosi in quanto attività in qualche modo redditizie, in realtà noi abbiamo molti punti di osservazioni che ci dicono che l'attività di impresa per le organizzazioni criminali è proprio quella che dà l'opportunità di riempiego dei soldi, tra del vero che poi l'elemento di squilibrio sui circuiti economici è proprio che avendo attingimento a canali finanziari che non sono illeciti ci si può permettere di rimetterci pure qualche cosa, cioè io ho cento... Infatti certe volte uno entra in un negozio bello, vuoto, sente il profumo del riciclaggio proprio dopo dieci cinque minuti, insomma, questo qua non mi convince, insomma, senza... cioè non una professionalità eccelsa, sostanzialmente un sostanziale disinteresse per la clientela intanto... Se poi a Roma trovi delle strade che sono caratterizzate da questo fenomeno che dici tu, con ristoranti e bar che sono vuoti, allora lì c'è proprio una concentrazione localizzata e Roma, il prefetto, scusami, mi scusi, insomma, il tuo prefetto è il ministro Lo sa che in Roma ci sono delle strade che sono tutte, che parlano un unico dialetto di regioni del sud. Questo senz'altro, sì, questo senz'altro e noi stiamo attenzionando molto, stavamo attenzionando prima nella mia appunto precedente funzione di prefetto, ma è un compito che ci stiamo dando come Ministero dell'Interno di vedere anche che cosa è successo proprio come esito dello scossone che la pandemia ha dato, perché c'è stata la chiusura in città come Roma, la chiusura di molte attività proprio di consumo al minuto, i bar, i ristoranti, stiamo vedendo di fare, insomma, rispetto alla molteplicità degli obiettivi, di sviluppare una capacità di analisi per intrecciare un po' quelli che possono essere stati i canali di... Allora, chiudiamo, Osho già da per scontato che i 10.000 euro siano moneta corrente, guardiamo questa vignetta. Non ce l'ha, spicci? Stamattina state tutti con 10.000 euro. Allora, in attesa della balconota da 10.000 euro, ringraziamo i tuoi amici all'interno, grazie per aver accettato il nostro invito a dedicare per noi, auguri per un lavoro impegnativo e introduciamo la parte con i nostri colleghi e con Arisola Ghisleri, quindi con dei sondaggi molto sorprendenti, che vedranno anche un sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico, la carica dei sottosegretari, che è una delle cariche, quella di Cavaleri, non sono niente, al confronto con Vittoria Abate, Paola Ferazzoli e Giancarla Rodirelli. Grazie. Grazie.